Ciao a tutti, sono Alessandra Dellefratte, ambasciatore di Hunter. Parlo per le maestre della classe Quinta G della Scuola Viale di Cedri di San Cesario, che ha partecipato anche quest'anno al progetto Il Sole in classe. I ragazzi della Quinta G hanno scritto una poesia, Recicliamo salvando. Votiamo questa poesia per far vincere la Scuola Viale di Cedri di San Cesario. La Scuola di San Cesario di Viale di Cedri ha bisogno del tuo voto. Anch'io come ambasciatore vi chiedo di votarla. Ringrazio il dirigente e le maestre per aver accolto il progetto. Ringrazio il tuo voto.